questa sera si gioca per la serie a la sfida tra sassuolo e juventus ma attenzione perché la vera partita la juventus la gioca fuori dal rettangolo verde di gioco attenzione perché il corriere oggi ci parla di una notizia molto importante che ha a che fare con la strategia della juventus e che ha a che fare col processo della juventus e quindi scopriamolo qui nel dettaglio io come sempre vi ricordo che qui su fcm sport troverete tanti aggiornamenti su sulla vicenda legata al processo juventus sia per quanto riguarda il campo quindi stasera avrete l'analisi post partita e la sfida tra sassuolo e juventus ma anche delle altre partite di serie a però vi ricordo che per essere costantemente aggiornati sulla vicenda juventus e quindi il caso plus valenza e manovol si vende e quant'altro vi ricordo che c'è sempre fcm sport basta iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciare un like a questo contenuto ovviamente parte importante di questo processo è anche dirci la vostra qui sotto c'è la sezione dedicata ai commenti assolutamente libera ovviamente tutto nel rispetto reciproco ma siete liberi di esprimere la vostra opinione cosa non del tutto banale quindi mi raccomando iscrivetevi e soprattutto commentate le vicende che vi vedono coinvolta la juventus allora oggi il corriere parla di una situazione legata alla juventus e della strategia della juventus attenzione perché si addirittura parla di un'intesa all'interno della juventus di che si tratta? si parla della ormai famigerata questione legata al patteggiamento un patteggiamento per il caso stipendi che viene considerata molto più che un'ipotesi in casa juventus lo sappiamo la juventus aspetta la decisione del 19 del coli sulla prima vicenda quella legata al caso plus valenze e c'è questa seconda casistica questo secondo caso legato alle manove stipendi e parteci sospette che può vedere uno scenario alternativo cioè quello di una juventus che può andare incontro al patteggiamento ma in quali casi si può concretizzare secondo il corriere sono due le casiste che sono due i casi che possono vedere coinvolta la juventus in un punto all'interno di questa situazione il primo caso il primo la prima condizione è quella relativa a un'intesa all'interno della famiglia agnelli quindi per poter andare incontro al patteggiamento deve essere necessario il sì di agnelli vi ricordate qualche tempo fa quando abbiamo parlato di uno scontro interno all'interno della juventus tra agnelli e gionelca voi direte ma come agnelli non c'entra più nulla perché non fa parte più della juventus e no perché agnelli è all'interno di questo processo comunque è un ex dirigente ma comunque coinvolto nella vicenda e quindi c'è da accettare anche un eventuale suo no e non è così scontato che lui possa accettare perché il club ha sempre professato la vecchia dirigenza ha sempre professato l'innocenza dei propri tesserati anche l'attuale dirigenza però l'idea patteggiamento è un'idea che forse proviene più da elkan che non da agnelli e attenzione perché questa è la prima condizione e ora ci torniamo la seconda è chiaramente quella di una sentenza favorevole alla juventus per quanto riguarda il primo caso cioè quello legato alla plus valenza e sappiamo che il 19 aprile tra l'altro il giorno prima del ritorno della sfida tra juve e sporting lisbona ci sarà la tanto famigerata decisione del collegio di garanzia del coni che avrà la possibilità di confermare o annullare la penalizzazione di 15 punti per la juventus ora la juventus ha una possibilità concreta cioè quella di poter aspettare perché la juventus ha 15 giorni di tempo per elaborare le memorie difensive quindi per chiedere un accordo eventualmente con la con la figc sulla base dell'articolo 126 del codice giudizia sportiva questa è un'ipotesi che quindi dà la possibilità alla juventus di prima vedere cosa succede il 19 capire se eventualmente c'è la possibilità di avere il più 15 una volta stabilito che c'è il più 15 quindi io mi sono liberato del primo caso quello relativo alle plus valenze posso andare incontro a un patteggiamento per trovare una soluzione ricordiamolo che la sanzione può essere diminuita fino a un massimo della metà di quella prevista quindi questo cosa vuol dire che la juventus potrebbe vedere il tutto risolversi con pochi punti ma secondo voi perché c'è questa necessità perché tutto questo restringerebbe e di tanto i tempi è quello che secondo me spinge la juventus a poter pensare di poter andare incontro a questo tipo di soluzione non è sì effettivamente ho sbagliato mi rendo conto che ho sbagliato patteggio perché molti dicono giustamente è una missione di colpa dicono effettivamente abbiamo sbagliato e se tu ti difendi in aule di tribunale e dici di non aver sbagliato e poi patteggi vuol dire che ti sei contraddetto la volontà della juventus invece è quella di accorciare i tempi è quella di dire ok siamo all'interno di un caos mediatico anche troviamo una soluzione che faccia tutti i contenti la fingecina esce pulita perché ha trovato un modo per punire una squadra che voleva colpire e comunque anche se hai patteggiato comunque qualche non so due tre quattro punti di penetrazione te li diamo comunque la juventus però allo stesso tempo cosa fa la figici? stringe i tempi e dice noi l'abbiamo punita la juventus ma la juventus comunque rimane in serie A comunque rimane un asset del nostro campionato perché ricordiamocelo è un periodo caldo anche questo della figici perché deve vendere i famosi diritti tv e quindi perché cosa? non più per un triennio ma per 5 anni quindi per 5 anni ci dovrà essere un campionato all'altezza e quindi chi si affaccia alla finestra della serie A per chiedere appunto i diritti e per oggi avendo degli stadi che sono quelli che sono lo stesso Gravina l'ha detto oggi il 100% di fatto dell'interesse dei club è quello dei diritti tv è troppo vincolato ai diritti tv perché non puoi chiedere cifre altisonanti per andare allo stadio se poi gli stadi sono così fatiscenti sono stati che sono stati costruiti per la maggior parte degli anni 90 per i mondiali del 90 per cui non puoi chiedere cifre esorbitanti non puoi chiedere grandi cifre in un contesto in cui sono stati che sono veramente ormai datati per cui il grosso lo puoi chiedere a che cosa? alle pay tv e quindi dipendi molto dai diritti tv diritti tv che però dipendono anche quelli e quindi l'offerta dipende dalla presenza dei grandi squadre e la Juventus è quella che ti porta maggiori introiti quindi l'interesse a questo patteggiamento c'è anche da parte della FGC che dice noi li puniamo perché comunque rimaniamo noi salvi sulle nostre opinioni ma comunque è un Juventus che rimane in Serie A facendo comunque i loro interessi la Juventus fa invece i propri di interesse dicendo ok patteggiamoci dai questi non so sto dicendo a caso tre punti di penalizzazione o meglio magari erano nei proposti 8 troviamo una via di mezzo arriviamo a 4 patteggiamoci dai 4 punti noi comunque andiamo in Champions League perché con 4 punti di penalizzazione secondo la Juventus comunque ci va in Champions League perché riavrebbe i 15 di fatto la penalizzazione più 15 è meno 4 quindi di fatto sono solo 4 punti di penalizzazione e vedendo come stanno la Juventus in campionato si può fare può comunque raggiungere la Champions League anzi la raggiungere secondo me a mani basse la Champions League con 4 punti di penalizzazione e tutto si conclude all'interno di quest'anno quindi un caos che poteva portare clamorosamente alla Serie B e a tutto quello che volete trova una via di mezzo e col patteggiamento secondo me anche la UEFA andrebbe meno a quelle che sono eventuali nuove situazioni nuovi pericoli questa è l'idea della Juventus non è la mia ripeto è l'idea che si sta appaventando in casa Juventus che si sta prendendo forma ripeto però ci sono queste due condizioni secondo il Corriere dello Sport a dover presentarsi e intesa all'interno della famiglia Agnelli quindi anche Andrea Agnelli deve essere d'accordo è sentenza favorevole per i Bianconelli 19 che sarà una data assolutamente importante quindi vi invito a essere tutti qui presenti il 19 che sarà quindi mercoledì per sapere come andrà a finire voglio sapere che pensate voi a poche ore da Sassuolo-Juve cosa ne pensate soprattutto a questo punto questa partita prende un valore ancora più importante perché Juventus continua a puntare forte sul campionato perché il campionato ti può ancora portare alla qualificazione in Champions League iscriviti al canale Grazie a tutti.